14 gennaio, teatro dell'Ulivo a Camaiore, dalle ore 20.45, serata in omaggio a Piero Ciampi. Ci siamo anche noi, insieme a un sacco di altri artisti. Ti vedo perplessa. Ti invece hai sempre tutto questo entusiasmo. No, io invece sto pensando, una serata. Eh. Ma te l'immagino una serata in mezzo a tutti questi maschi ciampiani. Eh, ma abbi pazienza. Ma noi che ci facciamo, eh? Che io non sono né bella, né bionda, né alta. Ma sei male? No, sono magra. Ti però sei alta. Io sono alta. E non sei neanche male. Che si fa? Ma si fa. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si.